eccoci nuovamente qui e parliamo ancora di componenti delle torri di raffreddamento questa volta parliamo dei separatori di gocce i separatori di gocce lo dice la parola stessa sono degli elementi che sono all'interno della torre di raffreddamento sono posizionati sopra alla distribuzione quindi sopra gli ugelli servono per arrestare quindi per fermare quelle goccioline di acqua che verrebbero trascinate dal flusso di aria in sostanza quando noi abbiamo l'aria a ventilazione forzata in una torre questa aria tende a trascinarsi delle goccioline di acqua e a portare all'esterno della torre aumentando quindi il consumo di acqua per limitare queste perdi di acqua si installano i separatori di gocce come sono fatti anche in questo caso come per i pacchi di riempimento i materiali classici ormai sono materiali plastici pvc o polipropilene i separatori di gocce che vengono utilizzati più frequentemente nelle torri ormai sono quelli termoformati un'altra tipologia di separatori di gocce sono i separatori di gocce ad alette continue e parallele hanno un'efficienza leggermente inferiore vengono utilizzati per lo più per altri sistemi di separazione di gocce non per le torri di raffreddamento o quantomeno molto meno sulle torri di raffreddamento si vedono ancora su vecchie torri di raffreddamento in cemento ma ormai tendono ad essere sostituiti un tempo questi separatori di gocce erano fatti anche in legno ma direi che ormai è un tipo di costruzione superata che non si utilizza più vi interessano i componenti dei lettori di raffreddamento altrimenti cambiamo video